Vai Cristian! Vai Cristian! Sganciatemi! Dai Cristian, bravo, buona questa! Wow! 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 bravo Cristian bravo no, non serve vai da papà, vai nini, vai da papà vai da papà, vai vai da papà, vai allora, è stato un buon combattimento ha vinto Cristiano bravo allora, il vincitore è il messer Cristiano stop stop Deswegen io bravo Ti Grazie a tutti.